In Campania, come nella maggior parte delle regioni italiane, i saldi estivi cominceranno domani per una durata di 60 giorni di calendario. Lo studio di Confesercenti rileva anche che i saldi per 7 negozi su 10 saranno un tentativo per recuperare un avvio danno negativo. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature poco meno di 230 euro. Quest'anno le offerte saranno più sostanziose del normale, il 68% delle imprese inaugurerà le vendite di fine stagione con riduzioni del prezzo tra i 30 e il 40%, mentre l'11% degli imprenditori si spingerà anche sopra questa soglia. Anche per le piccole e medie imprese iscritte a Confesercenti, Campania e Molise, i saldi estivi sono una grande opportunità per dare ossigeno alle aziende in perenne crisi economica con il recupero dei mancati incassi dei primi sei mesi dell'anno. In tal senso si innesta l'appello di Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti, Campania e Molise. Le nostre aziende contano di recuperare i mancati incassi dei primi sei mesi, in cui c'è stato un netto calo dopo una discreta ripresa di fine 2017. Tuttavia l'invito che lanciamo ai consumatori spiega è di spendere nelle attività commerciali sotto casa, in modo da evitare un tracollo già in atto da alcuni anni. Nel meridione, con la nostra regione in testa, c'è maggiore aspettativa ai suoi saldi. Le persone aspettano questi periodi dell'anno per completare l'armadio. La voglia dell'affare è confermata anche dalle intenzioni di acquisto. Oltre la metà dei consumatori del sud vuole usare i saldi per accaparrarsi i capi più convenienti, mentre il 36% punta alla qualità.